Buonasera da Piazza Dante a Piazza Pleviscito, a Napoli il corteo contro i roghi e gli sversamenti tossici nella terra dei fuochi con grandissima partecipazione, fermare i veleni, spezzare le connivenze, la parola d'ordine, evitare che le bonifiche diventino soltanto l'ennesimo affare. Le voci e le immagini nel servizio di Francesca Ghidini. Non vi scandalizzate, è Napoli, Cuba Cimiterra Barra, periferia Est, discarica abusiva da 20 anni. Siamo qui per rappresentare non soltanto i cittadini ma tutti coloro, le vittime dell'inquinamento della Campania e tutti coloro che ancora lottano tra la vita e la morte. Ogni giorno praticamente sappiamo di nuovi malati, fra i bambini, di morti, quindi siamo stanche e speriamo che qualcuno si ascolti. Noi non ci fermiamo, continuiamo finché non si cominciano con le bonifiche e soprattutto finché non vengono fuori le responsabilità di tutti. A noi non interessano le bonifiche fin quando non c'è controllo del territorio e fin quando le procure non fanno il loro dovere. Non ci riusciamo a spiegare come mai i criminali continuano la loro azione sul territorio, le aziende illegali continuano a produrre e si parli di bonifiche. Sono molto scandalizzato dal fatto che si cerchino i responsabili quando invece lo Stato italiano da circa 30 anni secreta omertosamente dei verbali sull'ecomafia dove ci sono nomi, cognomi, indirizzi, luoghi, disversamento dei rifiuti tossici e nessuno paga. Non ce la facciamo più vedere i morti, non ce la facciamo più vedere i morti. Ci sono tante discariche nel Parco Nazionale del Vesuvio, questo è uno scandalo. Il Vesuvio deve produrre ricchezza perché è una terra bellissima, non deve produrre più morte. Noi siamo qui per la vita perché i nostri figli e i nostri nipoti possono riavere la campagna a un tempo felix e che lo Stato che ci ha abbandonati risolga insieme a noi.